Saranno numerosi i cantieri che partiranno a inizio 2023 a Intra per gli importanti lavori finanziati con il PNRR. Se ne è parlato ieri durante una partecipata assemblea nel quartiere Intra, la presenza dell'assessore Raffaele Allevi e dell'ingegner Noemi Comola, responsabile dell'ufficio tecnico. Tra questi, ha spiegato Allevi, ci saranno Piazza Ranzoni, la parte di Lungolago Antistante, il piazzale del Flaim, la realizzazione della passerella sul San Bernardino all'altezza del Maggiore, che consentirà così di completare il percorso ciclopedonale che partirà da Fondotocce per arrivare al Cavallotti. E poi ancora, secondo l'otto di Corso Cairoli, il nuovo asilo nido, l'ex Carolina Alvazzi. Le opere dovranno essere almeno del 30% della loro realizzazione entro marzo 2024, ha detto l'assessore, pena la perdita del finanziamento. I cantieri quindi partiranno praticamente tutti insieme. Cercheremo di dare il minor disagio possibile ai cittadini, ha detto Allevi. Cambierà il volto di Intra sul Lungolago. D'altronde la mobilità lenta, le piste ciclabili diventano sempre più un'attrattiva turistica. Ha aggiunto l'assessore, sarà una sfida anche per chi verrà dopo di noi, riempire di contenuti tutte queste nuove cose e ci auguriamo che dopo i disagi potranno sorgere nuove opportunità. Il consigliere di quartiere Maurizio Sanavio ha evidenziato come se comunque il traffico su Corso Mameli resterà invariato, varrà a poco rifare la piazza che da progetto dovrebbe prevedere una sorta di continuità con il lago antistante. Comola ha spiegato che per piazza Ranzoni i lavori dureranno sicuramente più di otto mesi, anche se non è ancora stato realizzato il progetto definitivo. Al momento è stato affidato l'incarico per rivedere il vecchio progetto sulla cosiddetta circonvallazione leggera, che però sarà sicuramente realizzata in un secondo momento rispetto alle opere del PNRR. Preoccupazione è stata espressa più voci anche per piazza Fratelli Bandiera, con il progetto da 8 milioni di euro per la realizzazione di un parcheggio sotterraneo. I rappresentanti degli ambulanti del mercato hanno chiesto spiegazioni dal momento che il mercato, quando sarà rifatta la piazza, dovrebbe essere spostato al Flaim, che però sarà oggetto di lavori anch'esso, anche se il cantiere, specificato Comola, procederà per zone della piazza senza bloccarla del tutto. La dirigente comunale ha spiegato che i lavori al momento non sono previsti in simultanea e che per piazza Fratelli Bandiera non è ancora stata affidata la progettazione esecutiva. Il quartiere Intra, detto il presidente Giovanni Piana, indirà un'assemblea pubblica per illustrare il progetto.